Qual è questa la procetta di gusto? Si può darsi, ma quel segnetto niroso non è inutile Vabbè vediamo come continua Non ho visto se c'è cedo il led, quello rosso si accende dall'altro lato Però ci guarda Come ti l'ha vista? C'è il sito l'ha Questo braccio è bellissimo Non lo so C'è Adesso vediamo se l'abbiamo implementato il led C'è adesso devo mandare a casa e mandarvi il led? Si probabilmente si Però adesso investiamo in una maria assurda Voi l'avete chiamato la pallina? No adesso lo manderemo Mi avete ancora mandato l'action? Cioè non vi ho mandato più l'action a questo punto? Quando trovate la pallina? No ma devo finire nessuna action No ma ci può parlare Mi?